Quando notte il lupo grida all'ombra della luna La danza delle streghe non porta mai fortuna Fuoti spiriti ballate dentro il cerchio della luce Tramontate, stelle, anime, sorelle Fuoti spiriti ballate dentro il cerchio della luna La danza delle streghe si muore di mano Fuoti spiriti ballate dentro il cerchio della luce Fuoti spiriti ballate dentro il cerchio della luce Qual è il tuo film horror preferito? È l'anniversario del massacro di Moosboro Qual è il vostro film horror preferito? Qual è il tuo film horror preferito? La tragedia di una generazione è sempre uno scherzo per quella successiva Qual è il tuo horror preferito? Ora te lo mostro Questa settimana accadrà l'anniversario degli ignobili delitti di Moosboro Una delle vittime più famose, Sidney Prescott, ha deciso di tornare nella sua città natale Bentornata, ecco il trailer di quanto accadrà Che cosa vuoi? Chi parla? Stai invitando da Space Sono nascosto nell'armadio Bucciardo Aspetta! Sì! Yuri, che cosa succede? Non posso darti questa informazione Ma è lappertutto su internet Ah sì? C'è un assassino che imita gli omicidi del film originale E ora che muoia uno nuovo Mi l'ha aspettato è il nuovo cliché E le vergini muoiono per ultime Cioè non vivrò quanto loro due È chiaro? In questa nuova versione l'assassino dovrebbe filmare i delitti Gail! Ha le tue spalle! Va avanti se hai il coraggio Secondo me è stato lui Non può uccidere Sidney Lei è intoccabile Non è vero Siamo quasi alla fine Hai ragione Nel terzo otto c'è il massacro degli attori principali Incrociamo le dita che ci sia una scena di nudo Ora arriva l'ultima domanda Dipti il nome del remake più innovativo Halloween, non aprivate quella botta Le colline hanno gli ordini Le un po' le volte che non Piemiti di loro Sono scena di cenere Piemiti di loro È uno di questi, giusto? Nessuno di loro Torno subito È la tipica frase che è meglio non dire, vero? Perchè se... Avresti dovuto vedere la tua faccia